Viaggiando in territorio sloveno ci siamo fermati a Strugnano, paese famoso per le sue saline da dove si estrae un sale unico. Il paese si trova a un paio di chilometri dalla località turistico balneare di Portorosa. All'interno del villaggio di Strugnano abbiamo scoperto il ristorante Strugnano, dei titolari Miriana e Tony. Entrambi da 13 anni gestiscono il locale offrendo una cucina di carne e di pesce dove si possono apprezzare delle ottime grigliate di carne sloveno e di pesce istriani. Su indicazione dello chef Boris e della cordialità di Tommy abbiamo degustato un ottimo antipasto di salumi e formaggi, una grigliata mista di carne e di pesce abbinati a dei vini di produttori sloveni e istriani. Sono Tommy del trattoria di Strugnano, siamo aperti tutti i giorni tranne martedì. Lavoriamo tutto l'anno, venite a trovarci, benvenuti.